Stasera siamo all'Allotatori Milano con Fabio Tumazzo e Enrique Fernandez. Allora, bellissima serata, la palestra è veramente piena di atleti. Come sta andando Fabio qui all'Allotatori Milano? Ma non possiamo lamentarci. Abbiamo iniziato da poco e sta andando decisamente bene. Bene, oggi stasera c'è il corso di grappling, è pienissimo e complimenti vuol dire che ovviamente anche qui il grappling come l'MMA sta andando da grande e merito anche di un grande maestro che da anni si prodiga per promuovere prima il sambo, la lotta e adesso anche il grappling e l'MMA. Grande maestro e grandi allievi soprattutto. Sicuramente è così, tu sei stato un pioniere di questi sport, ovviamente il tuo contributo è straordinario. Allora, andiamo a parlare con Enrique che combatterà il 26 ottobre all'Amlite, una serata particolare dentro una discoteca, tu sei il tuo primo match a contatto pieno di MMA. Raccontaci, cosa fai di bello nella vita? Faccio l'oreo studente universitario. Studi ingegneria, mi hanno detto? Sì, studi ingegneria. Un studio molto difficile che probabilmente genera molto stress. Molto, molto, tanto stress. E quindi hai iniziato a praticare sport anche come valvola di sfogo? Sì, per liberare le tensioni. Senti, cosa ti dà gli sport da combattimento, l'MMA? Come riesci a bilanciare questo sport e la tua vita? Lo riesci ad ugualiare, mi sento molto tranquillo e ogni volta che esco dalla palestra mi sento molto rilassato, pronto per il giorno dopo per inserire le lezioni e poi per allenarmi ancora. Perfetto, l'equilibrio giusto per affrontare le sfide della vita moderna. Allora, come ti stai preparando per il match del 26? Chi sarà il tuo avversario? Il mio avversario è Salvatore Donato, non l'ho mai visto, è della palestra del team Pavone. Spero fare un bel match, un bel spettacolo e saremo lì, preparati. Bene, un in bocca al lupo e mi chiamo tutti a venirti a vedere, ovviamente, al Limelight il 26 ottobre. La serata inizierà alle ore 17. Allora, Fabio, com'è questo ragazzo? Come si sta allenando? Come prevedi questo match? Ragazzi, serio, sono sicuro che darà il massimo. È l'esordio per il suo avversario e sicuramente ci sarà da divertire, si daranno molto spettacolo. Bene, allora parliamo anche dell'Imelight, di un nuovo modo, di un nuovo format per lo sport. Una serata diversa dentro una discoteca in cui non c'è solo lo sport, ma c'è musica, ci sono balli, ci sono i cantanti rap. Quindi è un format diverso che probabilmente è più vicino allo spettacolo. Cosa ne pensi? Benvenga, mi ricorda un po' gli eventi che organizzano a Las Vegas, nei casinò. Benvenga, se riesce, se la cosa avvicina più pubblica possiede la nostra disciplina, perché no? Allora, adesso andiamo a vedere qualche fase dell'allenamento. Ringraziamo Fabio Tumazzo ed Enrique Fernandez, dalla Lottatori Milano a Pestano con Bornago e tutto. Grazie.